Un consigliere di maggioranza prima del Consiglio Comunale di oggi ha chiesto al Sindaco Gianluca Galimberti e alla maggioranza di compiere il passo decisivo per la chiusura dell'inceneritore. L'idea era che il Sindaco chiedesse ad A2ALGH di coinvolgere il Consiglio d'amministrazione perché venisse inserito in una delibera l'impegno alla chiusura nel 2029, cioè alla scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale. Il Sindaco però, benché sia responsabile della salute dei cittadini, si è rifiutato di compiere questo passo nei confronti di una società quotata in borsa. La notizia di questa sua scelta è circolata a margine della riunione del Consiglio di oggi, suscitando amarezza poiché è sempre più chiaro che la politica energetica ed economica del Comune di Cremona è in mano ad A2A, multiutiliti con proiezione europea, che prende le proprie decisioni altrove, a Milano e a Brescia, mentre al Sindaco non resta altro che un ruolo di copertura nei confronti del territorio. E A2A, infatti, con i propri manager, a condurre le trattative nei confronti delle aziende in grado di fornire calore, anche a proposito della strategia di ampliamento del teleriscaldamento, che riceve parte del calore proprio dall'inceneritore, in misura del 30%. Sarebbe il depuratore in futuro a garantire questa fornitura, anche se i rifiuti continueranno ad essere bruciati. Le riunioni dello steering committee, come il Sindaco ha chiamato il tavolo con le partecipate, si sono svolte presso A2A, che si appresta ad inglobare LGH al 100%. Le opere inserite nel piano energetico, e ancora non finanziate, sarebbero di fatto compensazioni per un'improbabile chiusura dell'inceneritore. Il cronoprogramma degli investimenti comprende nuove opere a partire dal 2026, mentre il mandato di Gallimberti scadrà nel 2024. Anche il prossimo sindaco, quindi, sarà privo di libertà decisionale.